Vardonecchia Questa è la 9D Vardonecchi Grande Piede! Bravo Piede! Stai scendendo bene! Che saltini! Sistemati bene la ginocchiera! Ciao! Grazie! Eccola qua la 5D! Vai vai! Non vedi la faccia? Stai facendo dopo la 5D! Ti salti quelli che vedi... Questo qua è tipo un panettone! Questo qua si salta! Mentre invece quando vedi i denti Sono compressioni! Servono per prendere velocità! Tipo questo qua è un dente! Non saltare lo copi! No, questo qua è un panettone! Un altro panettone! Non è un panettone! Ha ha! Gio! Eccolo! 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 Ci scappano tanti pedali! Eccolo! Eccolo! Bravo! Eccolo! Eh questo qua è vero! Comprimi! Eccolo! Bravo! Compressione! Bravo Pierre!